Benvenuti ragazzi, sono il vostro Min e oggi siamo di nuovo qua su Pokemon Training Card Game Online è piaciuto tantissimo lo scorso episodio dello spacchettamento, infatti siamo arrivati a 100 visual e non mi ricordo quanti like, però l'ho voluto riportare appunto perché è piaciuto e quindi oggi non abbiamo 5 pacchetti ma ben 6 3 di serie diverse, mi arrivano i messaggi come sempre mentre registro mutiamo, stavo dicendo abbiamo 3 buste diverse che ho preso con appunto la sfida giornaliera cioè ogni volta che entri ogni giorno, non so se chiama sfida giornaliera però ogni volta che entri nel gioco acquisti tipo delle cose e dopo 5 giorni hai una bustina gratis e queste sono 3 bustine ora poi negli ultimi giorni non sono entrato per via del lavoro però poi ne ho comprate visto che ho vinto un casino di sfide avendo tantissimi soldi, perché ho vinto tante sfide online e quindi ho preso 3 bustine, quindi io vando alle ciance andiamo ad aprire le bustine la scorsa volta abbiamo avuto abbastanza fortuna Ciao! 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 Io non dico niente, non dico niente ci! 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 apri un altro subito cosa fa? canzo questa cosa sta URIORU si si E' un'altra cosa che non doge Mi è un rioglio ragazzi E cosa dico? Abbiamo anche Mew Ultima mi sembra Della solita serie Non ricordo nemmeno come si chiama Allora guardiamo Stiamo uscendo sempre Apri ancora Ah erano finite le espansioni Ecco comunque erano queste ragazzi Trova tutto nelle buste Destini incrociati Non negozio scusate Collezione Prodotti Ok Ora cambiamo altre tre bustine Anche se potremmo fermarci qua ragazzi Perché Cosa cazzo abbiamo trovato? Boh Io non ho parole Non ho parole Continuiamo Ragazzi Teratini e Begon Non possono portare No E vabbè Dunque sto vedendo che destini incrociati Cioè Portano belle carte Ora la sfida giornale è quella che dopo 5 giorni prende un pacchetto Il pacchetto è a caso Quindi quello vabbè che se ne frega Però io vi consiglio di comprare destini incrociati eh ragazzi Vedendo quello che è uscito Meganium Bene Comunque sì È quello ragazzi Cioè destini incrociati Ci sono uscite quelle cose lì Attenzione a che fuoco infernale l'altra volta ha portato buone carte Ma Comunque io diciamo che Mi accontento Di quello Che Abbiamo trovato Ossine Zagarde Mew E Oddio l'altro non mi ricordo più Chi è? Chi è? Dov'è? Dov'è? Pogerme Pogerme Dov'è era? Filtro rapp Applica Zagarde Genesect Cioè Abbiamo trovato questi Cioè Io Io sono a posto così Per ora Per ora Quindi Se Vi piace questa serie Concligatando a mettere mi piace continuate a visualizzarla la porterò senz'altro e sicuramente la prossima volta visto che stiamo trovando queste carte io direi di fare anche un bel mazzino quindi ora mi preparo un attimo così faremo anche un mazzo insieme a voi e andiamo a combattere andiamo a fare delle lotte online visto che appunto ci servono i big money per comprare altri pacchetti quindi ci vediamo in un prossimo episodio da 1200 in linea allo studio ciao ragazzi dai iscriviti al canale dai iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale